Il panorama meraviglioso e incontaminato delle splendide colline del Monferrato rende la locanda del Bosco Grande la location perfetta per allestire un banchetto noziale, elegante e ricercato, affinché il giorno del vostro matrimonio resti per tutti un ricordo indimenticabile. La struttura della locanda vi mette a disposizione diversi spazi, ampi e luminosi, per allestire il vostro ricevimento. All'interno potrete usufruire della sala ricevimenti elegantemente arredata e con un'ampia vetrata. All'esterno avrete la possibilità di allestire un banchetto noziale nel giardino, soprattutto nella bella stagione, oppure un elegante aperitivo di benvenuto accanto alla bellissima piscina. Il personale vi metterà a disposizione esperienza e professionalità, seguendovi durante il vostro ricevimento per soddisfare ogni vostra esigenza, dal servizio di ristorazione all'allestimento delle sale, affinché non dobbiate preoccuparvi di nulla in questo giorno così importante. La location, oltre all'atmosfera suggestiva e romantica, vi offre anche un servizio di ristorazione delizioso, realizzando un banchetto noziale ricco di piatti genuini, preparati con ingredienti freschi che seguono la stagionalità, per una cucina ottima e naturale che contribuirà alla perfetta riuscita dell'evento.